Io sono il dottor Vittorio Aspromonte, cardiologo presso l'unità operativa complessa cardiologia UTIC dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove mi occupo particolarmente di aritmologia interventistica, quindi di aritmie e scompenso cardiaco in generale. Allora, sta arrivando l'estate e praticamente spesso i pazienti che noi seguiamo entrano un pochino in crisi. Allora, faccio una premessa intanto per dire che l'estate deve rappresentare un momento di svago, un momento di libertà e soprattutto di meritato riposo. Bisogna però non dimenticare che la pressione arteriosa, come diceva qualcuno, in estate non va in vacanza. Nel senso che chi soffre di ipertensione arteriosa deve sapere che è affetto da una patologia cronica, quindi che si porterà dietro per tutta la vita. E allora, è praticamente naturale la domanda del paziente che spesso pone cosa devo fare durante l'estate. Intanto durante l'estate bisogna con un po' più di frequenza controllare i valori pressori. Nel momento in cui i valori pressori si mantengono nei range della normalità, allora non bisogna apportare nessun tipo di modifica alla terapia antipertensiva. Nel momento in cui si cominciano a notare cali praticamente dei valori pressori e soprattutto quando diventano questi valori pressori patologici con dei valori inferiori a 100 di pressione massima sistolica e 60 di pressione minima alla diastolica, allora in quel caso bisogna rimodulare la terapia farmacologica che non deve essere mai effettuata in maniera autonoma perché i farmaci per l'ipertensione possono avere anche delle complicanze e quindi degli effetti collaterali e quindi devono essere gestiti solo ed esclusivamente dal cardiologo o dal medico praticamente di fiducia. Secondo le linee guida ESC del 2013 i valori di pressione arteriosa normali che oggi noi dobbiamo accettare sono rappresentati da un limite massimo di 140 con 90 di pressione minima. Questi ovviamente sono i limiti massimi entro i quali la pressione deve essere mantenuta è ovvio che se un paziente riesce ad avere un controllo emodinamico in base al quale la pressione si mantiene al di sotto è ancora meglio per un miglior funzionamento di tutto il sistema cardiocircolatorio. Spesso i pazienti mi chiedono quale sia l'approccio più giusto per misurare in maniera autonoma quindi a domicilio i valori pressori ed è una domanda molto lecita perché spesso ci si confonde. Allora in linea di massima la pressione andrebbe misurata in entrambe le braccia perché è fondamentale capire se ci siano differenze pressorie importanti tra le due braccia.